La sicurezza dei ragazzi nell'uso della rete internet e delle nuove tecnologie in genere. L'Istituto Omnicomprensivo Nicola Scarano di Trivento ha promosso nel pomeriggio un approfondimento sulle risorse della rete, ma anche dei suoi pericoli nascosti, un appuntamento formativo sulle nuove competenze digitali aperto principalmente alle famiglie degli alunni. Confronto utile tra genitori e formatori al fine di analizzare e comprendere le regole e l'importanza di un uso consapevole della tecnologia, strumento imprescindibile nei giovani per la comunicazione dei tempi moderni. L'Istituto guidato dal dirigente scolastico Maria Maddalena Chimisso da due anni ha intrapreso la divulgazione dell'informatica, materia che richiederà agli studenti competenze nella gestione dei sistemi informatici e robotici. In questo percorso di accrescimento la rete è un'occasione educativa importante. Crescere i propri figli al tempo di internet può essere un'esperienza entusiasmante e l'Istituto Trignino di Via Acqua Sant'Ianni ha invitato la comunità locale ad informarsi e formarsi per vivere serenamente il futuro insieme ai ragazzi.